Eccoci con Ivo, io purtroppo senza voce, non so voi, senti un commento su questa finale, Ivo? No, contentissimo, contentissimo, veramente abbiamo fatto una grandissima prestazione, oggi era difficile, ecco, si vede? Beh, certo! Quello è l'effetto dell'alcol? Ci sta! Si vedono appunto i risultati, comunque abbiamo fatto una grande prestazione perché non era facile, loro veramente una grande squadra e hanno fatto la differenza ai dettagli, siamo stati secondo me più bravi nel saper gestire i momenti importanti della partita. Questo è vero, però io vi do onore del fatto che tutto l'anno comunque siete rimasti in testa, sia il giorno d'andata, ritorno quasi, quindi alla fine ve lo siete meritato non tanto per oggi ma per tutto quello che avete fatto proprio da inizio anno, cioè poi vi siete confermati, corretti. Bravo, tu sei bene che non è facile avere la continuità perché noi a livello individuale siamo sempre stati molto bravi. Comunque sì, siamo riusciti quest'anno invece ad avere questo e quindi a fare bene durante tutto il campionato. Che stavo io, ovviamente. Ovviamente perché c'erano tanti, tra i quali cito Lorenzo Evangelista a Maverick, quindi grande Lorenzo. Senti, ultima domanda, ormai due trofei di fila al prossimo anno? Il prossimo anno? Già avevo detto l'anno scorso che probabilmente va arrivato il momento di appenerire i scalpini al chiodo, però insomma la voglia di giocare è sempre più grande della voglia di smette. Quindi non ci fa scherzi. Vediamo un attimo. Vediamo il prossimo anno, dai, non ci fa scherzi. Ancora bravo, ancora bravo.